Intensa attività di controllo da parte del WWF Nucleo di Salerno nei territori di Eboli e Capaccio Pestum. Nei pressi della Pineta, situata sul litorale, sono stati scoperti veri e propri ammassi di rifiuti abusivi, caratterizzati dalla presenza di lastre di amianto, rifiuti vari ed una carcassa di un'auto data alle fiamme. Immediata ne è stata data comunicazione al comune e dalla polizia locale. Nell'ambito degli stessi controlli è stato deferito un uomo residente a Capaccio, intento a raccogliere tartufi senza autorizzazione e con mezzi vietati. I tartufi sequestrati sono stati donati alla parrocchia San Nicola in San Vito al Sele.